Con Ulisse prende avvio la stagione di prosa di Manfredonia presso il teatro Lucio Dalla, una stagione che si prospetti innovative e all'insegna di tematiche importanti e attualissime. Il desiderio condiviso era quello di rimettere il teatro al centro di una comunità che in questo momento, come tutte le comunità in tutto il paese, non solo hanno bisogno di essere in qualche modo ricucite. E il teatro può ritrovare in questo senso la sua funzione vitale, quella di essere una Gorà dove i cittadini, il pubblico, arriva, si nutre e si confronta su quello che accade in uno spazio. Una vera e propria Gorà, quella immaginata dai protagonisti in cui lo spettatore non è inerme ma protagonista dello spettacolo. La stagione prevede 12 titoli per un totale di 16 appuntamenti. È una stagione piuttosto eterogenea. Abbiamo lavorato alla ricerca della bellezza, di quella bellezza che non è nata per intrattenere, cioè per tenere dentro, intrattenere, ma quella bellezza che è portata a stimolare. Quello che ci siamo augurati è che sia questa stagione un invito non a sprofondare in quelle poltrone rosse comode del Teatro Comunale Lucio Dalla ma a stare su quelle poltrone pronti per ripartire.